Gli audio racconti, serie Solar Pons, lo scrittore misantropo, di August Derlant, letto da Adam. Sebbene Solar Pons non lo collochi tra i migliori della sua carriera, il caso di Thomas Wilgrave, il famoso letterato attualmente scomparso, ha sempre esercitato su di me un fascino dal quale non sono mai riuscito a liberarmi. Una notte dell'ottobre del 1926, Pons e io, tornando dal Covent Garden, eravamo giunti in Pride Street, nei pressi di casa nostra, quando il mio amico, prendendomi per un braccio, mi costrinse a fermarmi e mi additò le finestre del nostro studio brillantemente illuminate. Nel vano di una di esse si stagliava il profilo di un uomo. Pons lo studiò per alcuni istanti, poi si voltò verso di me, inarcando le sopracciglia. Riconoscete quel profilo, Parker? Beh, non è certo quello di John Barrymore, a meno che Eno si sia messo una maschera, risposi. Stringendomi nelle spalle, ammisi di non essere in grado di dare un nome a quel profilo, sebbene avessi la netta sensazione che mi ricordasse qualcuno. Nel suo campo è un personaggio, quella faccia lunga, scarna, quel naso dritto, le sopracciglia cespugliose, la azzazera ricercatamente scompigliata. L'insieme richiama alla memoria una fotografia che compare sui rotocalchi della Capitale perlomeno una volta al mese. Che ne direste se io affacciassi l'idea che si tratti dell'autore di Victoria? Thomas Wilgrave? Ma certo, sapevo di aver visto quel profilo da qualche parte. E a qualcosa di Barrymore? Ammise Ponce con un breve sorriso. A dispetto della sua imponente e leonina apparenza, Thomas Wilgrave si rivelò un uomo di poche parole e dal comportamento quasi umile. Fatto questo che si riscontra spesso in uomini che, possedendo una personalità genuinamente superiore, sono poco portati a darsi delle arie e rifuggono dalla prosopopea e dall'arroganza. Così come Ponce, ricordando le fotografie, aveva subito riconosciuto lui, egli individuò Ponce all'istante e si scusò di essersi permesso di invadere il nostro studio. Gli accadeva molto raramente di lasciare la sua casa in St. John's Wood, ci spiegò, e, visto che si era deciso a uscire dal suo ritiro, era restio a ritornarvi senza aver prima portato a termine quanto si era prefisso di fare. Aspettò che Ponce e io ci fossimo tolti il soprabito, e poi, con una certa cautela, riprese a parlare. Sono qui per chiedervi se potete svolgere delle indagini su una piccola faccenda che, a quanto pare, mi riguarda, sebbene io non riesca davvero a spiegarmi come e perché. Ponce esitò, sfuggendo allo sguardo indagatore di Wilgrave. Direi che dipende dal genere dell'incarico. Ho l'impressione che questo vi interesserà, signor Ponce, disse lo scrittore misantropo. Ce ne vuole per stimolare la mia curiosità. Sono troppo abituato alle più complicate sottigliezze dell'arte dello scrivere e ai voli di fantasia. Gli avvenimenti consueti mi sembrano, in massima parte, estremamente banali. Il romanziere fece una pausa, mentre tirava fuori dal portafogli un foglietto di carta. Inforcati gli occhiali a Ponce, lo lesse per suo conto molto attentamente, come per sincerarsi, senza possibilità di dubbio, che fosse quello giusto. Poi passò il foglio a Ponce. Questi, dopo averlo letto, lo passò a me, e infine se lo riprese, accingendosi a esaminarlo, mentre un sorriso enigmatico gli illuminava il volto severo. Poche righe amichevoli. Un invito. Caro Wilgrave, sono appena arrivato dalla campagna, eppur avendo poco tempo a mia disposizione, desidererei moltissimo rivederti. Mi è assolutamente impossibile venire fino a St. John's Wood, ma spero di non chiederti troppo pregandoti di cenare con me, e, se possibile, passare insieme la serata venerdì 7. Ti aspetterò al cleric, al solito tavolo, Luckin. Già, Luckin, poeta e romanziere anche lui. Vive nell'Essex, disse Ponce con aria pensierosa. Scommetto che siete andato al cleric, ma Luckin non c'era. Non c'era stato. Non era nemmeno arrivato dalla campagna. Sì, sì, esattamente, disse Wilgrave sorridendo beato. Avete un talento meraviglioso, signor Ponce. Già, ma per voi è elementare, non è così? Non avrebbe potuto essere altrimenti, vero? Bene, le cose sono andate proprio come avete detto voi. Sono andato al cleric, Luckin non c'era. Non c'era stato. Non aveva lasciato messaggi. L'ho aspettato per un lasso di tempo ragionevole, e poi sono tornato a casa. Non ho nemmeno tentato di chiarire l'enigma. Ero seccato. Pensavo che qualcuno avesse voluto divertirsi alle mie spalle. Comunque, dovevo ammettere che la beffa era ben architettata. Leggendo il biglietto, non avevo avuto il minimo sospetto. Era proprio scritto nello stile di Luckin, e anche la calligrafia era imitata benissimo. L'indomani mattina ho telefonato, e così come voi avete intuito, Luckin mi ha detto che non si era nemmeno sognato di venire a Londra. Wilgrave sembrava più animato. Toltosi gli occhiali, si chinò in avanti per battere dei colpetti sul ginocchio di Ponce, mentre proseguiva. Sentite il resto, signor Ponce. Un paio di settimane dopo, ieri sera per essere precisi, è accaduto qualcosa di molto strano. Uscito sul terrazzino per prendere una boccata d'aria, fui spettatore di un incidente stradale, o meglio, di quello che sembrava essere un incidente stradale. Prima ancora che potessi rendermi conto di quanto era successo, due signori vennero correndo verso di me. Mi pregarono con insistenza di andare con loro, dato che ero un testimone oculare. La vita di un bambino era forse in pericolo, non c'era un minuto da perdere. Sebbene la cosa non mi facesse certo piacere, non esitai. Rientrai in casa il tempo di prendere il cappello e di spegnere le luci. Poi li raggiunsi. Adesso, dopo matura riflessione, capisco di aver agito sconsideratamente, ma nell'agitazione del momento, che altro potevo fare? Per farla breve, quei due mi spinsero in fretta e furi in un'automobile, che ci stava aspettando e che ci portò una decina di isolati più lontano. Mi fecero poi entrare in quella che sembrava una piccola sala d'aspetto. Uno dei due signori mi pregò, con molta cortesia, di attendere. Un funzionario sarebbe venuto il più presto possibile per raccogliere la mia deposizione. Detto questo, con aria molto indaffarata, egli sparì in una stanza interna. Passò un'ora senza che venisse nessuno. Allora mi alzai e tentai di aprire la porta della stanza in cui era entrato quel tale. Era chiusa a chiave e, per quanto io bussassi, non rispondeva nessuno. Allarmato, temendo di essere vittima di qualche macchinazione, mi affrettai a controllare la porta d'ingresso. Non era chiusa a chiave. Ero libero di andarmene, volendo. Naturalmente, lì per lì, non seppi cosa fare. Attesi ancora un poco, lo confesso, ma alla fine, completamente disorientato, me ne andai. Tornato a casa, mi tossi il cappello al buio ed entrai nel mio studio per accendere la luce. Vede, signor Pons, per leggere, io ho una lampada da tavolo con un paralume verde. Illumina molto bene la stanza, pur lasciando trasparire all'esterno appena un chiarore attenuato. Allungando la mano verso l'interruttore, provai una sensazione di calore. Toccai la lampadina, scottava, scottava come se fosse stata appena spenta. Eppure io l'avevo smorzata circa due ore prima. In fretta controllai porte e finestre. Non erano state manomesse, erano tutte chiuse, tranne naturalmente la porta principale dalla quale ero entrato. Ma guarda un po', esclamò Pons sempre con quel suo sorrisetto e strizzando gli occhi. Lo sapevo che vi avrebbe interessato, signor Pons. Dunque, dopo aver espletato quella prima indagine, notai che la porta che conduce alle soffitte era aperta. Io abito in un bungalow, pian terreno e solaio. Il solaio è piuttosto vasto, ma io ci tengo poca roba. Libri, riviste, giornali, le solite cose che accumulo la gente e che esercita la mia professione. Oltre ad alcuni vecchi mobili che facevano parte dell'arredamento della casa quando la comprai. Ebbene, quei mobili erano stati spostati e chi li aveva spostati aveva tentato di mascherare il fatto cercando di rimetterli al loro posto. Solar Pons, sovrapensiero, si stiracchiava il lobo dell'orecchio. Quando avete comprato la casa? Circa dieci anni e mezzo fa. Arredamento compreso, a quanto pare. E da chi l'avete comprata? Dagli esecutori testamentari incaricati della liquidazione di una vasta proprietà. Proprietà di chi? Di una vedova, credo. La vedova di un certo Paul Greenby. Un sorriso sfiorò le labbra di Pons, il cui interessamento aumentava a vista d'occhio. Avete detto di aver conservato in solaio alcuni dei vecchi mobili. che ne avete fatto degli altri? Li ho ceduti a un rivenditore di Cheapside. Per quanto ne so io, dovrebbe averli ancora lui. Se ricordo bene, il vostro indirizzo è Cavendish Road numero 7. Willgrave a noi. Suppongo che non conosciate nessun nemico che potrebbe aver scelto questo sistema per crearvi dei grattacapi. Willgrave scrollò le spalle. Non ho nemici. Naturalmente c'è gente che non la pensa come me e che a volte è aggressiva. Ma non so di nessuno che possa essere definito un mio nemico. Pons prese di nuovo in mano la lettera. Avete la busta in cui questa è stata spedita? Scusandosi, Willgrave gliela porse. E ora vediamo un po' quali indizi possiamo ricavarne. La calligrafia è scorrevole, sicché non è azzardato supporre che il gentiluomo sia un falsario rifinito. Trovare degli esemplari della calligrafia di Lakin non è certo un'impresa molto difficile, ma lo è come falsificarla con tanta abilità da trarre in inganno un vecchio amico. Possiamo presumere che il falsario, con l'ausilio di un complice, mirava a penetrare nel bungalow a vostra insaputa, senza che voi ne aveste nemmeno il sospetto. Se non fosse stato per questo, che cosa gli impediva di introdursi in casa vostra di soppiatto, stordirvi con una randellata e darsi da fare senza preoccuparsi delle conseguenze? Per qualche motivo molto importante, egli dunque voleva che voi ignoraste il suo interessamento per la vostra abitazione e per mistificarvi non si è certo risparmiato. Provane sia questo falso e ancor di più l'incidente stradale che, ovviamente, è tutta una messa in scena. Inoltre, deve aver studiato le vostre abitudini. Avendo constatato che conducete una vita ritirata e sedentaria, ha astutamente scogitato un sistema per allontanarvi da casa. Che cosa ci sia là dentro che lo interessa tanto resta da scoprirsi. Ma è proprio questo che lascia perplessi, lo interruppe Wilgrave. Io non posseggo oggetti preziosi, denaro in casa non ne tengo. I miei manoscritti li regalo a opere di carità affinché vendendoli ne ricavino qualcosa. Non ho assolutamente niente di valore. In questo caso non vi pare che automaticamente sia facile ipotesi che invece voi possediate qualcosa di grande valore senza esserne consapevole? Domandò Ponce. No, signor Ponce, rispose immediatamente Wilgrave. Io sono abbastanza competente in fatto di antichità e cose del genere. Non posseggo niente di pregiato se si accettuano alcuni libri autografati in edizione speciale numerata e ammetterete che il loro valore è al massimo un valore di affezione. Le sopracciglia contratte Ponce annuì riflettendo intensamente. Guardò carta e busta in controluce. Vedo che la lettera è stata imbucata in St. John's Wood. Questo fa pensare che se non voi quantomeno la vostra casa sia stata tenuta sotto osservazione. Noto anche che la carta è di ottima qualità. Sì, è esattamente la stessa che usa l'hacking. Davvero? Un lavoro rifinito? Disse Ponce scuotendo la testa. Ditemi, signor Wilgrave, quante persone ritenete coinvolte nel cosiddetto incidente al quale avete assistito? Beh, cinque o sei, credo. Colui che ha scritto la lettera, il suo complice e forse quattro compari o magari degli attori assunti per l'occasione. Attori è più probabile. Sareste in grado di riconoscere qualcuno di loro? Ne dubito, rispose Wilgrave. Quei due che hanno parlato con me forse, ma gli altri no. Ponce si chiusi in un silenzio che durò tanto a lungo da indurre finalmente Wilgrave a chiedergli se intendesse o no accettare l'incarico di investigare sulla faccenda. Evidentemente Ponce aveva già preso una decisione. a noi e chiese nome e indirizzo del commerciante al quale Wilgrave aveva a suo tempo venduto il resto dei mobili. Ditta T. Woodley e figli Cheapside 231A Sta bene signor Wilgrave avrò bisogno di visitare il vostro solaio. Venite pure domani mattina signor Ponce. La cosa potrebbe essere più urgente di quanto pensiate. Mai rimandare domani quel che si può fare oggi signor Wilgrave. Andiamo Parker. Sprizzando energia balzò in piedi per andare a prendere il suo cappotto a mantellina senza curarsi della titubanza del nuovo cliente. La casa del romanziere era facile a distinguersi dalle altre non tanto per l'accurata descrizione che egli ce ne aveva dato quanto perché era l'unica in quella strada a un solo piano. L'arredamento era semplice ma di buon gusto. Ponce si limitò a dare un'occhiata in giro fermando per un attimo lo sguardo sulla lampada che Wilgrave aveva trovato calda al suo rientro la sera prima. Il mio amico si diresse immediatamente verso la scala che conduceva al solaio e sparì nell'oscurità del soppalco sotto al tetto. Wilgrave e io lo seguimmo fermandoci però sulla soglia. Rimanemmo a guardarlo mentre egli aiutandosi con la sua torcia esaminava con la massima diligenza pezzo per pezzo i mobili accatastati nel solaio. Gli ci volle quasi un'ora e finché non ebbe finito non ci rivolse nemmeno una parola. Avete scoperto qualcosa? Gli domandò Wilgrave quando finalmente Ponce tornò verso di noi. Sì signor Wilgrave vedrete che non passeranno molti giorni e vi verranno chieste informazioni sui mobili che avete venduto. E dovrò rispondere? Ma certo disse Ponce con un sorriso enigmatico. poi raccomandò vivamente al romanziere di avvisarci immediatamente qualora si verificassero di nuovo fatti i sospetti tendenti ad allontanarlo da casa. Però era evidente che Ponce non credeva molto nella possibilità che qualcosa del genere dovesse ripetersi. Augurata la buonanotte a Wilgrave ce ne andammo. Quando fumo di nuovo a casa Ponce rimase seduto in silenzio per un bel po' assorto nelle sue meditazioni. Rilesse la lettera che aveva trattenuto esaminò ripetutamente la busta buttandola all'affermazione che il falsario doveva essere in veste da camera quando l'aveva scritta visto che una macchia di inchiostro rivelava l'impronta dell'orditura di un certo tipo di tessuto che lui Ponce conosceva bene. Finalmente chiuse la fase dedicata alla meditazione telefonando sebbene l'ora fosse già tanto tarda al direttore dell'ufficio di collocamento degli attori per chiedergli di mandare in Pride Street l'indomani mattina 4 o 5 attori in grado di recitare la scena di un simulato incidente stradale possibilmente qualcuno che avesse già svolto un lavoro del genere in altre occasioni. Dopodiché senza ulteriori commenti sul curioso racconto di Wilgrave Ponce si ritirò per andare a letto. L'indomani mattina alle nove in punto si presentarono a casa nostra tre uomini e una donna inviatici dall'ufficio di collocamento degli attori. Ponce che li stava aspettando li interrogò immediatamente. qualcuno di loro aveva già fatto un lavoro del genere antecedentemente tre dissero di no ma uno affermò di aver partecipato alla ricostruzione di un incidente stradale in St. John's Wood proprio due notti prima. ovviamente ma egli non sollevò obiezioni. Così come è prassi normale della polizia anche Ponce aveva un suo archivio in cui riuniva dati concernenti i crimini e criminali. È una consuetudine questa comune a quasi tutti gli investigatori sia professionisti sia dilettanti. Egli dunque si avvicinò al suo schedario estrasse le fotografie in questione e senza far parola le dispose sul tavolo davanti a Nickerton. Senza fiatare l'attore si soffermò a esaminarle una per una. Quattro le scartò immediatamente ma riguardo alle altre due la sua incertezza era palese. Ponce cominciava a innervosirsi lo capì da come si tormentava il lobo dell'orecchio. Alla fine non riuscendo a controllarsi più a lungo sbottò. Signor Nickerton salta agli occhi che trovate una certa rassomiglianza con qualcuno. Forse se immaginaste queste facce munite di baffi o di barba vi riuscirebbe più facile l'identificazione. La reazione di Nickerton fu immediata. Se questo signore portasse i baffi direi che è stato lui a dirigere la ricostruzione dell'incidente cui ho preso parte mercoledì scorso. Eccellente esclamò Ponce chiaramente soddisfatto. Subito dopo riposte le foto nell'archivio eccetto quella identificata congedò il signor Nickerton. Allungai una mano per prendere la fotografia. Era quella di un uomo di mezza età dall'area distinta volto rubicondo monocolo e occhi penetranti. E questo chi sarebbe? Domandai. Domanda pertinente rispose Ponce con una risatina. Non è altri che l'autore protagonista del curioso racconto di Thomas Wilgrave Guy Pilkington uno dei più consumati falsari di Inghilterra anzi d'Europa direi. E' uscito di prigione pochi mesi fa. Aveva falsificato un assegno sulla banca d'Inghilterra e l'avrebbe fatta franca se non avesse avuto la sfortuna di trovarsi coinvolto in un incidente d'auto sulla strada di Dover. Ma che cosa può volere da Wilgrave? Questo mi sembra abbastanza elementare rispose subito Ponce. Costui è stato correo in una delle imprese di Carros Perry che è morto in prigione circa otto anni fa. Ricorderete Perry il protagonista di una quantità di colpi audacissimi di cui si è fatto un gran parlare? Venne condannato per il furto di una gemma nota sotto il nome di Occhio di Pavone non ricordate? Fingendosi un gioielliere ebbe la faccia tosta di presentarsi in casa del proprietario della gemma di esibire un'autorizzazione di pugno dello stesso e di andarsene tranquillamente con la pietra in saccoccia. La prova schiacciante che egli non riuscì a smantellare fu una fotografia scattata per caso da un ragazzo mentre Perry era sul terrazzino davanti alla porta d'ingresso della casa. Perry era il fratello della vedova di Paul Greenby. Andiamo adesso disse Ponce con improvvisa vivacità. Il lavoro ci aspetta. Su usciamo. Percorremo un breve tratto di Pride Street per andare a prendere la metropolitana. scesi alla stazione di Moorgate uscimmo di nuovo nella nebbia mattotina che stava diradando e procedemmo a piedi lungo Prince Street fino a Chipside. Raggiunto ben presto il numero 231A Ponce entrò direttamente nel negozio. Un omino rotondetto con la papalina e gli occhiali ottagonali seduto dietro la cassa come ci vide si alzò per venirci incontro. Ho il piacere di parlare con il signor Woodley? domandò Ponce. Sì, signore, in che cosa posso servirvi? Mi chiamo Solar Ponce, signor Woodley. Qualche tempo fa voi avete comperato dei mobili da Thomas Wilgrave, il romanziere che abita in St. John's Wood. Gradirei esaminarli se li avete ancora. Sono mobili molto dozzinali, signor Ponce, disse Woodley dubbioso. Posso mostrarvi dei pezzi assai migliori. Non ne dubito, ma sono proprio quei mobili che desidero vedere. Suppongo che li abbiate ancora in magazzino. Lotto 47, signor Ponce. Su ogni lotto c'è un cartellino numerato, nella prima stanza a destra in fondo al negozio. Sono soltanto quattro pezzi, una vecchia poltrona, un sofà e due seggiole scompagnate. Grazie, vado soltanto a dare un'occhiata. Dopodiché, Ponce si inoltrò nell'oscurità della retrobottega e, attraversando un locale che faceva parte dell'area del numero 231A, girò a destra, sbucando così in un ampio magazzino. aiutandosi con la torcia a mano localizzò il lotto numero 47 e subito si dedicò a un esame dei mobili altrettanto minuzioso quanto quello praticato sui pezzi rimasti nel solaio di Willgrave. Non proferì parola, salvo un gridolino di esultanza prima che la sua testa spuntasse da dietro la spalliera della poltrona per farmi capire con un cenno di avvisarlo se per caso arrivasse il signor Woodley notai che cavato di tasca il suo robusto temperino a tutto fare trafficava intorno alle bullette che fissavano l'imbottitura della poltrona ma che cosa precisamente stesse facendo non riuscì a capire poco dopo comunque lasciato il cantuccio in cui si trovava mi si avvicinò per chiedermi un pezzettino di carta strappai una pagina dal mio tacquino e gli raggiudi dopo avere scritto qualche cosa sul foglietto egli si affacendò di nuovo intorno al mobile e quando ebbe terminato il suo lavoro mi raggiunse il signor Woodley ci aspettava ebbene signor Pons non avevo ragione robaccia dozzinale avrei invece alcuni sheraton grazie ma per il momento non mi interessano ah signor Woodley credo possibile che fra breve vengano altre persone per il lotto 47 a meno che io non sbagli di grosso vi offriranno una bella sommetta non mollate cercate di ottenere il massimo l'acquirente è smanioso di entrare in possesso di quei mobili con questa enigmatica affermazione Pons lasciò il negozio e si affrettò a uscire nel sole che di tanto in tanto faceva capolino attraverso la leggera bruma della mattina di ottobre camminava con gli occhi scintillanti di allegria e questo mi rendeva certo che le sue ricerche non erano risultate infruttuose però non mi disse niente e io mi astenni dal fare domande finché non fumo di nuovo a casa dove trovammo un messaggio della signora Johnson aveva telefonato il signor Wilgrave lasciando detto che gli erano state chieste informazioni a proposito dei mobili e che lui aveva risposto attenendosi alle istruzioni di Pons sarebbe bene che telefonaste a Wilgrave Parker ditegli di venire qui verso le due del pomeriggio se gli interessa conoscere la soluzione del mistero disse Pons allora l'avete risolto oh sì elementare fino al disappunto ma non privo di aspetti interessanti alzò le spalle a proposito vorrei che telefonaste anche a Lord Velner e gli diceste che gli sarei grato se potesse venire qui da noi oggi pomeriggio alla stessa ora ma insomma di che cosa si tratta Pons fece udire la sua solita risatina soffocata sentite Parker conoscete i fatti la soluzione sarebbe dovuta risultare ovvia per voi così come lo è stata per me fin dal momento in cui Wilgrave concluse il suo curioso racconto non riesco a capirci niente salvo che a quanto pare esiste uno stretto rapporto tra quei mobili e qualcosa di molto prezioso fuoco fuochino continuate non andate con i piedi di piombo Parker ridendo si rifugiò nel suo schedario lasciandomi alle prese col telefono il romanziere ansioso di conoscere le novità e tuttavia dubbioso era arrivato soltanto da pochi minuti e si era appena seduto quando la signora Johnson annunciò Lord Velner un uomo sulla sessantina alto dal volto austero vestito impeccabilmente fissò lo sguardo penetrante dei suoi occhi grigi sul mio amico e chinò la testa in un cenno di saluto volevate vedermi signor Pons sì credo di avere qualcosa che appartiene a vostra signoria così dicendo infilata una mano nella tasca della giacca Pons tirò fuori una pietra grezza che poggiò con non curanza sul tavolo davanti al Lord Velner la meraviglia trasformò il volto di sua signoria in maniera quasi comica a bocca aperta spalancando gli occhi fece un passo in avanti e ghermì la pietra per esaminarla da vicino soltanto dopo averla guardata ben bene e a lungo si rivolse al mio amico è l'occhio del pavone dove l'avete trovato esattamente là dove Perry lo aveva messo nell'imbottitura della spalliera di una vecchia poltrona che in quel tempo si trovava nella casa di sua sorella a St. John's Wood ricorderete che la polizia riuscì a ricostruire come Perry avesse impiegato il suo tempo quel giorno minuto per minuto tranne che per una mezz'ora che egli asserì di aver trascorso nella metropolitana la passò invece in casa della sorella molto probabilmente all'insaputa di questa per nascondere la pietra nella poltrona ma è morto senza rivelare niente infatti ma uno dei suoi complici Guy Pilkington colui che falsificò l'autorizzazione era nello stesso carcere è stato sempre messo in dubbio che Perry fosse l'autore del falso era troppo perfetto la vostra calligrafia era stata imitata in modo magistrale e così anche la vostra firma Pilkington è uscito di prigione non molto tempo fa e non appena gli è stato possibile si è messo alla ricerca della gemma la sua ricerca lo ha condotto alla casa del signor Wilgrid il celebre scrittore e il signor Wilgrid è ricorso all'ausilio dei miei immodesti talenti dopo che Lord Velner se ne fu andato Ponsa rivolse la sua attenzione al romanziere dunque avete capito come stavano le cose signor Wilgrid sì salvo che non mi spiego perché Pilkington abbia agito con tanta cautela diamine ma per impedire il verificarsi di un'eventualità che proprio la sua eccessiva prudenza ha invece provocato non voleva correre il rischio che voi vi rivolgeste a qualche persona competente in grado di inquadrare il problema in termini razionali e perciò di rintracciare l'occhio del pavone prima di lui ecco perché Pilkington ha falsificato con la massima precisione la firma di Lucky e ha accuratamente messo in scena l'incidente che senza dubbio vi sarebbe stato spiegato in maniera plausibile se voi non ve ne foste andato da quella specie di ufficio in cui vi avevano condotto voi avete lasciato la sala di attesa prima che Pilkington e il suo complice avessero avuto il tempo di completare il loro gioco a rimpiattino facendovi fare la vostra deposizione di questo deve essere senz'altro il responsabile il complice perché Pilkington non avrebbe mai commesso l'imprudenza di lasciarvi andare via prima di aver dissipato qualsiasi vostro eventuale sospetto può darsi che Pilkington a suo tempo si fosse fatto dare una chiave di casa vostra da Perry o che all'insaputa di questo ne avesse preso il calco o magari che il calco lo abbia ricavato proprio dalle chiavi in vostro possesso sia come sia che una chiave l'avesse dimostrato a rigor di logica dobbiamo presumere che Pilkington pur avendo saputo da Perry che la pietra era nascosta in un mobile ignorasse come lo ignoravo io in quale mobile fosse Wilgrave si alzò per prendere congedo allora è stato lui a scrivermi chiedendomi che ne avevo fatto del resto dei mobili precisamente e adesso si precipiterà da Woodley per comprare quei mobili mi piacerebbe vedere la sua faccia quando sventrerà la poltrona prendendo in mano la pipa Ponce sorrise non potrà far reclamo fu il suo breve commento al posto della gemma gli ho lasciato una ricevuta firmata di mio pugno Gli audio racconti serie Solar Ponce Lo scrittore misantropo di August Derlitt letto da Adam su Sous-tit